Noi siamo a pochi metri dal ponte di Vadena, vedete alle mie spalle, sono in corso di nuovo le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Intanto la novità di oggi, ci avviciniamo finché è consentito, c'è un posto di blocco dei Carabinieri che però fa passare solo mezzi autorizzati, quindi noi in realtà più di così non possiamo avvicinarci, quindi proviamo a documentare da qui quello che sta succedendo. Il punto in cui si continua a cercare è proprio sotto il ponte di Vadena, dove ricordiamo secondo la procura esattamente in quel punto Benno Neumair avrebbe gettato i corpi dei suoi genitori. Ricordiamo anche che già alcune settimane fa però la procura aveva ordinato qui una perlustrazione e quindi ora la domanda è perché tornare dopo il sopralluogo delle scorse settimane, e dopo quello di ieri ancora in questo punto c'è una novità che abbiamo saputo, lo specifichiamo, non è una novità ufficiale. Però la scorsa settimana dopo le perquisizioni dei Risti nell'abitazione dei coniugi Neumair, nella loro bella casa di Bolzano, la perquisizione dei Risti è venuta mercoledì e giovedì. Venerdì abbiamo saputo che i Carabinieri sarebbero entrati di nuovo nell'abitazione e avrebbero prelevato indumenti e oggetti e si sarebbero anche accorti che in casa mancano alcuni oggetti, probabilmente anche dei pesi. Sappiamo che Benno Neumair è molto attento alla forma fisica, è un personal trainer e quindi l'ipotesi milo è che proprio lì sotto al ponte, oltre a cercare i corpi dei due coniugi, potrebbero gli inquirenti in questo momento cercare in realtà solo questi oggetti, proprio questi pesi che mancherebbero... Un oggetto proveniente, questo spiega perché hanno insistito a lungo, soprattutto nell'immediato, proprio sotto il ponte, trovare degli oggetti che possano in qualche modo essere ricondotti a casa, all'abitazione e quindi alla proprietà di Benno. Francesca, torniamo fra qualche istante a collegarci con te. Intanto presento i nostri ospiti che ci hanno raggiunto nello studio di Milano. Benvenuta a Caterina Collovati, al collega Stefano Zurlo e alla dottoressa Saraviola, che è psichiatra. Un saluto alla dottoressa Flaminia Bolzan, criminologa, nel 7 di Mazzini, a Monica Leofreddi, a Silvana Giacobini, ben ritrovata Silvana, e al dottor Valerio De Gioia, che è magistrato. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, io comincerei subito proprio con il dottor De Gioia, perché spesso diciamo che quello che non si riesce a capire di certe inchieste sono tempi un po' lunghi, no? Cioè, tre settimane per arrivare a dragare o comunque a controllare il ponte dove verosimilmente sono stati gettati i corpi o comunque dove sono state trovate tracce, immagini, telecamere che non ci sono più perché abbiamo aspettato settimane per chiederli, interrogatori che non ci sono o sono stati, diciamo, in maniera superficiale, personaggi che entrano nell'inchiesta un po' di sguiscio, di sghembo, come la presunta fidanzata, mica di Benno, che dimentica di dare i vestiti, carabinieri che entrano in un appartamento di 30 metri quadri cercando prove e non si accorgono che ci sono dei vestiti da uomo negli armadi, cioè è tutto un po' strano, no? in queste inchieste. È una sensazione oppure a volte partono un po' traballanti queste indagini? Beh, io penso che in questa situazione specifica questa indagine sia volutamente, diciamo così, rallentata. Infatti poi nel corso del tempo si sta riuscendo ad acquisire una serie di elementi. Per esempio, finalmente sono venuti fuori gli indumenti che indossava il ragazzo, che è l'unico indagato attualmente per questo che si ipotizza essere un duplice omicidio con occultamento di cadavere. Va detto che le lungaggini in questo caso sono anche ancorate a tutta una serie di rilievi di natura tecnica. Si è arrivati ad individuare il punto esatto in cui si trova la macchia di sangue, che si ipotizza essere del padre di questo ragazzo, soltanto incrociando i risultati della videocamera di sorveglianza e dall'altro lato con le celle telefoniche alle quali si erano agganciati i telefoni in uso ai due, ormai possiamo dirlo, non penso ci siano più dubbi, alle vittime probabilmente di un fatto di reato, ma questo verrà poi appurato. Però considerate anche che ci sono delle situazioni in cui volutamente un'attività di indagine prende i suoi tempi. Per esempio molti si sono chiesti perché non è arrivato un provvedimento limitativo della libertà personale del soggetto indagato. Ecco, bisogna considerare che spesso sono scelte anche investigative. O da un lato non sono così forti e gravi gli indizi di colpevolezza, o dall'altro lato già sono presenti, già sono molto forti, ma c'è una scelta di prosecuzione delle indagini che suggerisce di non adottare misure limitative della libertà personale. Tradotto, diciamo, vogliono lasciarlo, libero magari di parlare, libero di muoversi, libero a volte anche quello, no? Di fare la famosa telefonata o di mandare il famoso messaggio. Ecco, sul ruolo della fidanzata, della ragazza, Stefano Zurlo di Benno, che si presenta il giorno dopo la perquisizione dei carabinieri, perquisizione che francamente è un po' dell'inverosimile, dicendo, ah scusate, mi sono dimenticato di darvi i vestiti che aveva indosso la sera del presunto omicidio, o comunque della certa sparizione dei coniugi. Cioè, che effetto ti fa una roba del genere? Beh, intanto vorrei dire che quello che dice il dottor De Gioia, secondo me vale spesso il discorso di mantenere, come dire, la calma, o come diceva lui, di rallentare. Se tu hai un gruppo di indagati, un ambiente magari anche ristretto, di solito il dottor De Gioia lo sa bene, si dice, lasciamo un attimo, vediamo se si parlano fra di loro anche con le ambientali. In questo caso, francamente, posso esprimere ad alta voce i miei dubbi, nel dire, è rallentata, speriamo che non rallenti troppo. Ecco, mettiamola così. Dopodiché, l'immagine della fidanzata o amica o quello che è... Non so se posso intanto chiedere alla regia di farmi vedere le immagini che arrivano in diretta con Francesca Martelli, cerchiamo di capire anche cosa stanno facendo, perché vedo che sta indicando. Però, se non... scusami, ti ho interrotto, perché stavo pensando che, se non sbaglio, è stato aperto anche un fascicolo per Francesca, perché sono trappelate delle notizie riservate. Addirittura. È corretto? Sì, esatto. Diciamo che quello che abbiamo appreso è che la Procura sta valutando l'apertura di un fascicolo per violazione del segreto istruttorio. Devo dire che in questi giorni stiamo lavorando con un po' di difficoltà, perché è complicato qui ottenere delle informazioni ufficiali. Sono molte, sono trappelate sui giornali e quindi c'è un po' questo braccio di ferro. Vi stavo solo facendo indicare, se possiamo un po' zoomare sulla sinistra, Milo, che ora hanno tirato su anche l'ultimo gommone che era in acqua fino a pochi minuti fa, perché i soccorritori, gli inquirenti, cercano prima una conferma visiva, perché qui, sull'Adige, c'è una corrente molto forte. Ci hanno spiegato che non è il caso di far immergere i sommozzatori dei vigili del fuoco se non in presenza di una conferma visiva, di aver appunto... Anche perché se il fondo è melmoso, come si avvicinano al fondo, iniziano a cercare, si solleva e quindi poi la visibilità è sicuramente molto ridotta, perché loro hanno altri strumenti. Per darvi una notizia, è giunta in questo momento, la leggiamo insieme, è morta all'età di 96 anni la mamma di Laura Perselli, appunto, ne stiamo parlando adesso, scomparsa tre settimane fa, si è malmerito Peter Neumar. L'anziana non ha mai saputo della scomparsa di sua figlia e l'ultimo momento in cui l'ha vista è stato il 4 gennaio, proprio poche ore prima della sua sparizione. Infatti la Perselli aveva fatto visita alla mamma, che era appena stata dimessa da un lungo ricovero in ospedale. Questa è l'ultima notizia che è arrivata. Dottoressa Viola, cosa possiamo capire di questo ragazzo, di questo Benno così sicuro di sé, così freddo, così distaccato nell'unica intervista che chi l'ha visto ha realizzato? Senza voler essere l'ombrosiani, cioè già guardando l'immagine, insomma una persona con un'enorme attenzione a sé, molto concentrato su di sé. La freddezza e l'attenzione a sé quasi sempre sono la spia di un disagio. Un disagio non vuol dire un crimine, per carità, però sicuramente un'attenzione psicologica particolare sarebbe necessaria. Quello che volevo dire anche Milo è che come al solito si perde il tempo psicologico delle indagini. È un fatto inevitabile nel nostro paese. Io condivido quel che diceva prima il magistrato che qualche volta attendendo... Intanto stiamo vedendo se la regia ci aiuta l'uscita, l'allontanamento dei mezzi, dei vigili del fuoco. Eccolo qua, i vigili del fuoco che stanno andando via. Quindi hanno finito i rilievi sul ponte. Il criminale si tradisce o fa dei passi falsi o potrebbe farli. Però è anche vero che se, soprattutto con un soggetto che ha appena commesso un crimine, quindi con un'emotività labile in una situazione particolare, non si interviene presto, in fretta, per raccogliere quelle che sono le condizioni di pancia, permettetemi di dirlo, perdiamo delle occasioni importanti. Chiaramente, forse, probabilmente, come dare una sicurezza in più all'ipotetico assassino. Che si crea questo castello di certezze. Esatto, io vorrei correre l'attenzione, Milo, anche sulla figura dell'amica, della fidanzata. Ho visto, appunto, l'ottima intervista mandata in onda da... Chi l'ha visto. Chi l'ha visto, esatto, di quell'inseguimento per strada, dove lei, molto spaventata, risponde e parla di questi vestiti, di quella notte, lui è arrivato tardi, si è andato alle 5 del mattino. Insomma, delle stranezze molto importanti, secondo me, per la questione, soprattutto il fatto del lavaggio dei vestiti. Lei non conviveva con quest'uomo, per cui qual è il motivo per cui un amico, un amante, viene una notte e tu devi lavare i vestiti, che lui, peraltro, poi avrebbe comunque portato a casa regolarmente. I passaggi sono quelli, no, Caterina? Esatto, intorno a questo fatto, io mi sottolineerei molto. I passaggi sono questi, Monica, poi sentiamo subito gli altri ospiti. Benno esce di casa, quindi sta a casa, esce di casa con i vestiti, a quanto pare, sporchi e va dalla fidanzata, compagna, mangia con lei, fa la doccia, non sappiamo se prima o dopo aver mangiato, le consegna i vestiti sporchi e poi vanno a letto, dormono, alle mattine alle 5 si alza e porta fuori il cane, con i vestiti puliti che si è portato dietro. Sì, no, sicuramente, allora questa vicenda può essere, da questo punto di vista, o molto strana o molto normale, perché invece dell'intervista della ragazza a me ha proprio sorpreso il fatto che, nonostante l'avessero fatto questo inseguimento, quando già, insomma, era uscito il nome di Benno, già le indagini erano un pochino avanti, la totale sorpresa, come a far pensare che in realtà quella serata, neanche venendole in mente dei particolari, l'avesse in qualche modo messa in guardia rispetto ad alcuni comportamenti, mi fa pensare che invece Benno sia stato o lei è complice totale, questi vestiti avevano anche delle chiare tracce, oppure davvero è molto sorpresa di questo fatto, perché lui è riuscito a passare una serata normalissima. I pesi anche, quello che diceva la tua inviata con questa indiscrezione dei pesi, fanno pensare anche al fatto che lui li abbia proprio messi ai corpi, perché i corpi trascinati dal fiume sono anche più facilmente ritrovabili rispetto a dei corpi che invece magari sono fermi su un fondo così melmoso, paludoso, e questo farebbe anche pensare a una premeditazione, cioè se tutto questo impianto, queste indiscrezioni fossero vere, io non ci vedo neanche un omicidio a seguito di una discussione, ma ci vedrei invece un qualcosa di estremamente premeditato e ragionato. È possibile, dottoressa Bolzana, che sia tutto così studiato? No, nell'alveo credo di no. Nell'alveo dell'ipotesi che vede Benno come colpevole credo che prenda molto più piede l'idea di un delitto d'impeto, specie se proprio sono stati utilizzati i pesi che presumo potrebbero essere proprio dei manubri utilizzati nella quotidianità. Tra l'altro è stato molto interessante l'intervento della dottoressa Viola, perché ha posto l'accento sui tempi psicologici dell'indagine. Allora, se da una parte ritengo estremamente veritiera la sua affermazione, quindi il fatto che magari un criminale nell'immediatezza della commissione di un delitto possa presentare anche dei tratti di labilità emotiva, e quindi una sorta di tensione che potrebbe indurlo diciamo anche in contraddizione. D'altra parte è vero anche che un tempo maggiormente dilatato permette intanto di acquisire più dati a chi conduce l'investigazione e poi anche di concedere quel momento di relax in cui potrebbe, tra virgolette, arrivare l'errore. L'errore che cosa significa? Che può arrivare appunto maggiormente la possibilità di contestare poi nel merito l'agito. Quindi non ritengo che la procura si stia muovendo male, né tantomeno che quest'indagine abbia dei tempi eccessivamente dilatati. Si sta cercando di raccogliere tutti gli elementi necessari in grado di sostenere una tesi. Penso però, scusate, solo un secondo, che si possano fare entrambe le cose. È che il problema è che si perde il primo pezzo. Cioè sono due scuole, poi chiediamo al dottor De Gioia anche di mettere l'ultima parola. Però Silvana, tu sei direttrice di tanti giornali, scrittrice, e in tutti i gialli, in tutti i libri dove si vede, dove c'è una narrazione che racconta di un colpevole, di un delitto, sappiamo che il primo interrogatorio è fondamentale. Deve essere fatto in un certo modo, deve essere anche un interrogatorio duro, perché tutto quello che viene detto la prima volta dovrà essere confermato la prima, la seconda, la terza, la quarta. Silvana, prego. Apri pazienza, l'audio era proprio spostato mentre si terminavi. Allora, guarda, qui si tratta, se fosse vero, e quindi diamo assolutamente il rispetto all'indagato di dimostrare la sua innocenza, che si tratta di un delitto familiare in cui gli stessi membri, padre, madre, fratelli, non conoscono fino in fondo la personalità di chi poi può rivelarsi un assassino. Purtroppo ci sono parricidi, ci sono uomini che hanno ucciso la figlia di 12 anni, il padre, la madre e la moglie. Ci sono dei fratelli che hanno ucciso i fratelli. Noi ci troviamo di fronte a un dramma, a una tragedia spaventosa, perché è possibile che Benno possa essere l'assassino. Io mi auguro assolutamente di no. Anche perché Gunther, il fratello della vittima, cioè del padre di Benno, afferma che quella macchiolina di sangue che apparterebbe, e dobbiamo dar credito al Risse, alla vittima, possa essere un depistaggio. Quindi mette avanti il dubbio che il nipote sia anche innocente e lo rispettiamo. Ritorniamo al primo interrogatorio. Quando mi riferivo alla personalità poco conosciuta, anzi sconosciuta, del parente più prossimo, è che corrisponde a un narcisismo, a un egoismo straordinario e quindi ha una personalità in qualche maniera in disagio, diciamo. Ecco, la cosa che a me, un'altra cosa che, scusami direttore, un'altra cosa che a me ha colpito, per esempio, è la freddezza subito tra fratello e sorella, no? Cioè Benno è rimasto totalmente e sin dalle prime battute isolato. La sorella non ha mai detto ma cosa state pensando, non è possibile, non ci credo. Cioè lo zio nemmeno, quindi una famiglia che non si è stretta. Non ha fatto quadrato, non ha fatto quadrato. E questa è veramente una cosa curiosa che difficilmente avviene, no? Davanti alla figura di un indagato e comunque di un possibile. La famiglia rimane compatta. L'hanno come scaricato? Dottor De Gioia, chiedo scusa, dottor De Gioia, sulle tecniche investigative e sui primi interrogatori, qual è il suo orientamento? Cioè, credo che il primo interrogatorio sia fondamentale perché cristallizza un racconto che poi, su cui poi si dovranno trovare dei riscontri. Più tempo dai una persona, dico, correggere il tiro, aggiungere particolari, più tempo gli dai di essere credibile. Se uno dice io ho fatto questo, questo, questo la prima volta, è poi da lì che deve partire l'indagine. No? Non è corretto? Sì, io concordo anche con quanto è stato detto dalla dottoressa Viola. In realtà bisogna distinguere l'interrogatorio. A seconda che tu hai già assunto la qualità dell'indagato, perché in quel caso io ho la possibilità anche di avvalermi dalla facoltà di non rispondere. Molto spesso, e quello che è accaduto anche in questo caso, il soggetto poi indagato è stato sentito come una persona informata sui fatti. E quelle dichiarazioni che ha reso, che non sono dichiarazioni confessorie, per molestando, è stato detto da tutti, la necessità di un accertamento delle responsabilità, quindi si presume la non colpevolezza dell'indagato, va detto che quelle dichiarazioni poi sono state utilizzate per vedere se c'erano riscontri. E' vero però quanto dice la dottoressa Viola sul fatto che a me per esempio personalmente capita che se interrogo qualcuno nell'udienza di convalida dell'arresto, il che vuol dire che l'interrogatore deve avvenire nelle 48 ore dalla commissione del fatto di reato, normalmente a fronte dell'evidenza della responsabilità c'è un'ammissione degli addebiti che porta poi dei vantaggi di non poco conto a livello processuale perché si può conseguire una riduzione significativa di pena. In questo caso però probabilmente nell'immediatezza non avevano a disposizione tanti elementi per la ragione che ho spiegato prima perché sono stati acquisiti delle telecamere le celle che si sono agganciate quindi quel primo interrogatorio non ha portato all'effetto che potrebbe talvolta conseguirsi cioè un'ammissione se il soggetto è responsabile. Io volevo solo una frazione di secondo perché questa è una vecchia storia anche è molto importante anche come vengono posto le domande prima qui in studio dicevamo tanta freddezza la famiglia che lo ha lasciato noi sappiamo nulla dei rapporti tra le persone quindi sarebbe anche importante che ci fosse un tecnico della domanda uno psicologo uno psichiatra qualcuno che ponesse le domande purtroppo l'età mi consente di andare indietro con la memoria e ricordare i tempi in cui i sospettati quelli che poi finirono in galera e confessarono i tempi di mani pulite venivano interrogati da magistrati che insomma come Antonio Di Pietro non erano proprio dei magistrati che ti mettevano a tuo agio le posso offrire un caffè cioè se ti offrivano un bicchier d'acqua è perché c'era un motivo c'era una bottiglia di una certa marca di acqua minerale perché c'erano tangenti legati insomma a quelle vicende non c'era prego stia tranquillo stia sereno anzi era un atteggiamento completamente diverso tintinnavano le manette in quegli interrogatori però magari queste sono tecniche sbagliate adesso si usa un altro stile di interrogatorio allora andrei velocemente alla Francesca per chiedere se ci sono degli aggiornamenti vedo intanto i mezzi che continuano un po' a arrivare un po' a andare via ma credo che stiano smobilitando esatto in realtà stanno come dici tu stanno proprio andando via e soprattutto significativo è andata via la gru dei vigili del fuoco che era quella che finora serviva sia per diciamo per calare i gommoni sull'adige ma che sarebbe servita eventualmente anche per prelevare qualcosa dall'acqua quindi direi che proprio in questo momento possiamo in realtà dare per terminate le ricerche in quel punto quindi si può dire che non hanno trovato nulla almeno da quello che possiamo intuire in questo momento grazie a Francesca Martelli e ai colleghi che hanno reso possibile questo collegamento noi adesso